Lo definiscono un taglieggiamento della democrazia, quasi come se i cittadini italiani fossero improvvisamente diventati inaffidabili. Un pool di docenti della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo e Chieti lanciano un grido d'allarme per denunciare il rischio di annullamento dei diritti dei cittadini, sanciti dalla Costituzione, in particolare della seconda parte della Costituzione, l'unica ad essere modificabile, l'unica, tra l'altro, che può arrivare ad inficiare la prima, quella dei cosiddetti diritti inalienabili. Questa volta mi sembra che il Parlamento voglia andare più speditamente, agendo anche attraverso una serie di meccanismi parlamentari che cercano di far fronte alla resistenza in atto da parte delle forze di opposizione. Domani è l'occasione giusta per discutere pubblicamente di quello che sta accadendo e quindi dello stravolgimento in atto della Costituzione, almeno secondo noi. È sul potere del referendum abrogativo e su quello della proposta di legge su iniziativa popolare che si concentra la preoccupazione dei promotori dell'incontro. Secondo la proposta si vorrebbe innalzare il numero di firme necessarie all'approvazione dalle attuali 50.000 a ben 250.000, nel caso della legge popolare, ben 5 volte di più, e nel caso del referendum abrogativo dalle attuali 500.000 firme a 800.000. Insomma, secondo gli esperti, si andrebbe così a togliere ai cittadini il diritto sancito dall'articolo 1 della Costituzione, quello sulla sovranità del popolo italiano. La Costituzione è modificabile solamente nella seconda parte, cioè nella parte che offre una prima formale e normativa attuazione della prima. Nella prima parte ci sono i principi fondamentali che sono intoccabili, immodificabili, anche attraverso il sistema di revisione costituzionale contenuto nell'articolo 138. È chiaro che si può agire solo sulla seconda parte, ma queste modifiche che vengono proposte hanno una rilevanza fortissima sulla prima parte, hanno un'incidenza fortissima sulla prima parte, ecco perché io poc'anzi dicevo che finiscono per incidere proprio sulla forma di Stato. Grazie a tutti.